Nell'Unione Sovietica non è mai esistito alcun comunismo. Smettiamo di fare questo errore occidentale. Il 19 febbraio del 1953, il Presidium del Soviet Supremo dell'URSS si riunì per discutere una sola questione. Il trasferimento della regione di Crimea dal dipartimento della RSFSR al potere della SSR Ucraina. La parola discutere qui è piuttosto una convenzione. L'idea non è stata analizzata, non è stata discussa. Il leader del partito dissero di sì, alzarono le mani all'unanimità, dopodiché il presidente del Presidium del Soviet Supremo dell'URSS, Kliment Vrashilov, firmò. L'unico che ha cercato di obiettare è stato il presidente del Comitato regionale della Crimea del PCUS, cioè il capo del governo regionale della penisola, Pavel Titov. Per quello è stato subito punito. E' diventato poi un semplice viceministro. Il passaggio di proprietà della Crimea è avvenuto nel periodo quando la penisola era sovietica e l'Ucraina stessa era sovietica. Una delle repubbliche all'interno dell'Unione Sovietica. Quindi il passaggio non aveva alcuna valenza politica piuttosto amministrativa. Un anno prima morì Stalin. Un mese prima fu fucilato Beria. Le ambizioni carrieristiche di Khrushchev lo hanno portato a una vittoria. Ora lui deve crearsi una cerchia delle élite ucraine fedele. Dirigeva la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina dal 1938 al 1947. Un regalo come la Crimea rendeva la sua posizione politica a Mosca ancora più forte. I suoi avversari erano Molotov e Malenkov, però non avevano lo stesso assa nel manico. Solo che nessuno poteva prevedere come questa formalità, fra parentesi, sarebbe diventata importante dopo 37 anni. Quindi non si sono opposti al trasferimento della Crimea all'Ucraina. La decisione è stata presa senza fare alcun referendum. Nessuno ha pensato di chiedere i cittadini russi che popolavano la penisola. Sono stati russi ieri e sono diventati forzatamente ucraini oggi. Perché così ha voluto Nikita Khrushchev. Il secondo argomento logico per il trasferimento della Crimea è l'acqua. Le autorità sovietiche stavano sviluppando un piano per costruire il bacino idrico di Khrushchev. Doveva fornire acqua alla penisola. La costruzione è stata complessa e costosa. E risolvere i problemi logistici e amministrativi era molto più conveniente attraverso Kiev che da Mosca. Pertanto mettere la Crimea legalmente nella Repubblica Ucraina sembrava giusto. C'è da aggiungere che in quel periodo si stavano avvicinando le celebrazioni dedicate ai 300 anni dopo la riunificazione dell'Ucraina con la Russia. A questo proposito, le sessioni commemorative dei soviet supremi della SSSR Ucraina e della RSFSR si sono svolte festosamente. La Repubblica Ucraina e la città di Kiev sono stati conferiti di ordini di Lenin. Teatro di Kiev ha mostrato al Teatro Bolshoi le sue migliori opere e balletti. Alla stazione di Kiev a Mosca fu posta la pietra del futuro monumento in onore della riunificazione. A Mosca e Kiev si sono svolte grandi sfilate militari e manifestazioni. Insomma, tutto ciò che era necessario era stato fatto in nome di un nobile obiettivo, rafforzare ulteriormente l'amicizia dei due più grandi popoli e di tutti gli altri popoli del paese sovietico. Sull'annessione dell'Ucraina alla Russia ho parlato nel video precedente. Khrushchev voleva presentare all'Ucraina un regalo da parte sua su un piatto d'oro, in modo che l'intera Repubblica conoscesse la sua generosità e la costante preoccupazione per il successo dell'Ucraina. Una cosa è certa. Nikita Khrushchev ha insultato le tradizioni storiche e i principi di Lenin dal punto di vista del partito e dello Stato. La popolazione della Crimea allora contava 1.200.000 persone, di cui il 71,4% erano di etnia russa, il 22,2% erano ucraini e il 6,4% altre nazionalità. Quando Nikita Khrushchev ha chiesto nel presidio ci sarà qualche obiezione, Bulganin, Mikoyan, Kirichenko, Kaganovich hanno detto giusto, sì, accettare, trasferire. Soltanto Molotov ha detto sotto i baffi che la decisione non era corretta e che però sarà accettata per forza. La Crimea non aveva mai fatto parte dell'Ucraina. Gli ucraini lì non avevano maggioranza, né uno strato imponente. Sarebbe giusto adesso far risuscitare Khrushchev e portarlo a Nagorno-Karabakh, Georgia, Azerbaijan, Trasnistria e chiedergli. Allora? Com'è? Si sono uniti tutti? Il punto è che Khrushchev amava parlare dell'unione di tutte le etnie, di tutti i popoli nel prossimo futuro, quando arriverà il comunismo e le divergenze nazionali non avranno alcuna valenza. Possiamo dire che Nikita Khrushchev era un traditore o un agente dell'Occidente, degli alieni. Riguardo all'agente, anche tenendo conto di tutte le teorie cospirative, è improbabile. Per quanto riguarda il tradimento, la colpa dell'ex leader può essere attribuita solo al tradimento della logica statale e della strategia a lungo termine per compiacere la sete personale di potere. Mezzo secolo dopo, questi giochi di esperti e decisioni avventate hanno portato a un'enorme quantità di complessità e controversie politiche. L'ultima cosa che voglio aggiungere, nell'Unione Sovietica non è mai esistito alcun comunismo, smettiamo di fare questo errore occidentale. È esistito il socialismo, il socialismo non comunismo. Stop, punto.